Il presidente Musumeci continua con la solita tecnica di amplificazione propagandistica anche nel settore rifiuti, promette investimenti mentre nella realtà non riesce nemmeno a sbloccare l'iter per l'ammodernamento dell'impianto di compostaggio di Sciacca. Lo dice Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD, commentando così la notizia che i sindaci della SRR Agrigento Ovest, dove ben 15 comuni su 17 hanno superato il 65% di raccolta differenziata, attendono da mesi che del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti completi l'iter autorizzativo per l'ammodernamento e il potenziamento dell'impianto di produzione di Sciacca che è di gestione pubblica. Il progetto di ammodernamento e potenziamento dell'impianto, già destinatario di un finanziamento pubblico realizzato secondo le migliori tecniche disponibili, è stato sottoposto alla valutazione del competente servizio 8 autorizzazione del Dipartimento Acqua e Rifiuti nel lontano ottobre 2019 e per il quale si sono tenute tre conferenze di servizi di cui l'ultimo il 15 settembre del 2021. Da quella data, dice Catanzaro, non sono seguite richieste di ulteriore integrazione né tantomeno pronunce per la definizione del rinnovo dell'autorizzazione. La sensazione di Michele Catanzaro è che manchi una precisa volontà politica da parte del governo musumeci che mostra una Sicilia virtuosa che pesa però solo sulle spalle dei cittadini. A fronte di un aumento della raccolta differenziata infatti non può esserci una riduzione della tassa sui rifiuti da parte dei comuni costretti a conferire negli impianti privati con costi triplicati quando quelli pubblici sono saturi. È il caso dell'impianto di Sciac, quello di Santa Maria, che tende proprio da mesi il definitivo via libera per un ampliamento che renderebbe autonomi per i rifiuti differenziati 17 comuni del comprensorio con evidente riduzione dei costi. Mi farò portavoce delle legittime attese dei sindaci, conclude Catanzaro, dello staff gestionale e tecnico della SRR che hanno più volte incontrato dirigenti e funzionari del dipartimento per cercare di dare impulso alla procedura.